Il centro commerciale da 32.000 metri quadrati a ridosso del castello del Cataio non sa da fare. I bravi di Manzoniana a memoria smettono le vesti dei bruti e indossano quelle dei paladini della giustizia prendendo la forma di una sentenza, quella del Consiglio di Stato, che pone fine dopo più di 20 anni a una battaglia durissima. Non esitano a parlare di vittori residenti, i viticoltori di questa meravigliosa area ai piedi dei colli, i comitati ambientalisti che avevano stretto una solida alleanza con le associazioni dei commercianti. Anni di dure battaglie, di manifestazioni, di visite guidate al castello che grazie alla nuova proprietà riprendeva vita con la spada di Damocle pendente sulla testa di ricorsi, pronunciamenti e sentenze per arrivare a quella definitiva del Consiglio di Stato. Di 24 pagine della sentenza scrivono nero su bianco quale sia l'interesse prevalente della comunità. L'aspettativa edificatoria di privati non può dunque essere considerata un elemento idoneo a impedire il pieno esplicarsi della tutela del bene riconosciuto di valore ambientale. Insomma, il Cataiova ha preservato, una battaglia in cui la nostra emittente è stata sempre a fianco dei cittadini in difesa di un bene prezioso per tutta la comunità.